Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. È stata una cosa ingiusta, anche perché il Presidente ma ce l'ha contro di me, perché ho modificato la divisa, perché è un cretino. E non dico altro perché poi sfioro un pochettino con le parole. A me non interessa particolarmente essere la migliore. Penso che sono persone che si impegnano più di me. Sono gli altri a dipingermi come la prima della classe. È così brava in classe che non ce l'ho. Se ce l'avessi avuta io, mi sarei depressa anche io, perché era più in alto di me. Giornata brutta. O mi piace? È l'ingiustizia, caro. Come se non c'era un punteggio più alto. Neanche la settimana scorsa noi ci meritavamo di vincere. E loro non si meritavano di vincere questa settimana, noi non la settimana scorsa. Sono l'ingiustizia che creano i professori, i presidi... Che sono tutti i pezzi... pezzi belli. Che figata! Ma quel cos'ho bucciera dei cuccioli? Se rimane da piedi, godo! Finito! La novità più importante di questa settimana è la professoressa Petolicchio. Figaro! 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 Un po' è un melodico però. Sono gocci, ma che mo' entro in acqua. Mi fa venire? Si calma, si calma. Respira. Il dolore è una cosa della vita. L'orecchie! Fa male! Nice aveva attacchi di mal di testa. Chi? Il maestro Francesco Dotti. Nice? Chi? Ma nice. Arriva, piano, piano! Stiamo rubando tutto ciò che te c'hai da mangiare. Siamo tutti. Quasi sono gli appunti. Fuori! Fuori dalla mia lezione! Isca e si vergogni! E si vergogni! Si chi non gli fa bene? Allora, tutto! Chi?